Paradiso, la vostra opinione? Fa caldo, inizia ad arrivare il caldo, abbiamo sentito parlare di eco-incentivi per i climatizzatori, siamo nel posto giusto, Acquatec Impianti, ci hanno consigliato, andiamo a curiosare. Siamo curiosi perché effettivamente abbiamo bisogno di installare il climatizzatore a casa perché fa caldo, arriva il caldo, arriverà l'estate. Abbiamo sentito parlare di eco-incentivi, ci hanno parlato bene di Acquatec Impianti, siamo arrivati fino qui nel negozio e parliamo con il titolare. Sì, buongiorno, siamo partiti con la campagna per quest'anno con lo sconto in fattura. Ok, qui abbiamo due condizionatori in esposizione, abbiamo due Toshiba e un Mitsubishi. Ok, cosa vuol dire lo sconto in fattura, giusto per capire? Lo sconto in fattura, praticamente noi al cliente gli scontiamo il 50% dell'attrazione fiscale che lui andrebbe a recuperare in 10 anni. Ok, quindi vuol dire che uno arriva qua, il contratto lo fate voi comunque? Sì, gestiamo tutto noi, dall'ufficio, con il nostro commercialista, loro ci forniscono solo i documenti che ci servono e poi le pratiche le facciamo noi. Questa è già una grande cosa, così uno non deve perdersi tra la burocchia, eccetera, eccetera. Dunque, uno che ha un appartamentino normale tipo me, che climatizzatore deve mettere per rinfrescare un po' l'amiettivo? Ma io devo avere un frigorifero, ma almeno un fresco. Ma sì, in genere un 12.000 è più che sufficiente per rinfrescare un appartamento. Poi se uno vuole climatizzare ogni stanza, allora lì andiamo a mettere un 9.000 o un 7.000, dipende dalle... Mentre i modelli qua in esposizione, scusami, me li puoi descrivere un pochettino? Sì, abbiamo due macchi che sono, noi siamo ufficiali Toshiba, montiamo parecchi Toshiba, l'anno scorso abbiamo montati più o meno 60-70, adesso non ne ricordo più bene. Sono macchine che funzionano e che hanno un altro problema. Funzionano benissimo e sono paragonate a un'alta gamma, poi abbiamo anche i Mitsubishi e tutti, anche chi vuole il Daikin, chi vuole l'Airmank, qualunque macchia che uno desidera. E' già una grande la cosa. Dunque, poi uno viene installato, voi vedi installato a casa giustamente, c'è bisogno del tubo al discarico, della condensa fuori, cosa c'è bisogno? Sì, allora praticamente se non c'è niente facciamo tutto noi, facciamo un buco, la carottata, facciamo l'impianto con la coltubazione di scarico, che va in grondaio o in fognatura, dipende, se c'è la possibilità, comunque il lavoro viene fornito e finito da Z. Grande informazione, grazie di tutto, ma soprattutto dobbiamo ancora chiederti una cosa, si può sapere qualcosa sul prezzo più o meno, a che prezzo andiamo incontro, ad incirca? Ma con lo sconto in fattura, un'installazione normale, siamo intorno ai 7-800 euro, dipende un attimino poi dalla potenza della macchina. Non c'è l'enticarsi da via, ci possiamo stare dentro tranquillamente. Sì. Diamo due informazioni, acquatecchi e pianti, dove siamo? Qua siamo a Livorno Ferraris, abbiamo aperto da un paio d'anni, ci siamo sopra l'edilizia di Vornese. Ok. Noi ci spostiamo ovunque, dove volete voi. Un numero di telefono. Allora, il numero mio è 333-3173-839. Perfetto, io ti ringrazio infinitamente e ci vediamo alla prossima. Va bene. E vogliamo avere un po' di fresco per l'estate, grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi.